Ciao, sono Valentina e in questo video ti voglio spiegare quanto non abbia senso compiacere la tua persona specifica se vuoi veramente manifestarla. Troppo spesso dai racconti che sento fare dalle mie studentesse e da chi appunto mi scrive, mi segue nella newsletter, è avere la tendenza, quando si vuole manifestare una persona specifica, a compiacerla. Cosa intendo dire con compiacerla? Intendo dire che si ha appunto la tendenza a mettere la persona specifica al centro del proprio mondo, mettendo quindi di conseguenza noi stessi in disparte. Allora innanzitutto bisogna dire che quando questo accade è naturale che la persona specifica tenda ad allontanarsi, tenda a non sceglierci, tenda a come dire non filarci neanche di striscio. Perché? Perché quando noi mettiamo qualcun altro al centro del nostro mondo anziché mettere noi stessi, in automatico stiamo manifestando dalla prospettiva di mancanza e non solo stiamo anche dimostrando all'altro o all'altra che in qualche modo loro hanno più valore, o quantomeno che noi riconosciamo a loro più valore di quanto ne riconosciamo a noi stessi. Questo chiaramente è un grosso problema e molto spesso abbiamo la tendenza a credere che più siamo accondiscendenti con la persona specifica, più appunto la compiacciamo, quindi ci adattiamo a quello che questa persona specifica decide di fare, sceglie di fare nei nostri confronti, oppure non mettiamo sul tavolo diciamo quelle che sono le nostre esigenze, le nostre volontà, questo in automatico ci rende estremamente poco attrattivi. Perché? Perché appunto in questo modo noi non stiamo veramente ponendoci di fronte all'altro con l'autenticità di una persona che si riconosce il proprio valore, che si stima e che si rispetta. Perché di fatto se abbiamo questa tendenza a compiacere la persona specifica o comunque a compiacere qualcun altro, soprattutto in ambito sentimentale, significa che sotto sotto crediamo che se non lo facciamo questa persona non ci vorrà o che questa persona si allontani da noi o appunto che non ci voglia e che non abbia più nessun desiderio di stare con noi. Quando facciamo questo ovviamente lo stiamo facendo e stiamo facendo questo ragionamento dalla prospettiva di mancanza. Perché noi vogliamo compiacere l'altra persona perché altrimenti se non lo facciamo tu non ci sei. Quindi questa persona se ne va. Ovviamente questo crea non solo una dinamica malsana nel rapporto ma è anche una dinamica estremamente malsana nel rapporto con noi stessi. Ed è proprio questo, come dicevo prima, il motivo per cui spesso quando vogliamo manifestare una persona specifica e tendiamo a compiacerla questa in realtà si allontana. Questa in realtà non si comporta nei nostri confronti come noi vorremmo. Proprio per questo stato di mancanza che è qualcosa che si annusa, si snasa nell'aria. Anche se non è dichiarato credimi che le persone comunque lo sentono e tendono a fare un passo indietro. Perché? Perché è impegnativo ed è poco gratificante avere a che fare con una persona che non si ama, con una persona che non si rispetta, con una persona che mette se stessa al secondo posto. Anche se alle volte, a parte che devo anche dire che ci sono alcuni invece rapporti che si basano su questo, cioè su una persona più forte che vuole soggiogare, così possiamo dire, l'altra. Però ecco sappiamo che è una dinamica malsana per cui se ti ritrovi in una tipologia di rapporto di questo genere, l'unica cosa che ti posso dire è togliti immediatamente perché è una dinamica che porterà solo a cose dolorose di fatto. Quindi lasciando stare questo, diciamo che in un rapporto di qualità che sia rispettoso per entrambe le persone e che sia in equilibrio, è necessario che vi siano due persone che hanno stima di se stessi, che hanno amore per se stessi e che questo sia, questo amore individuale, sia anche il fulcro e la base per potersi amare reciprocamente. Se uno dei due ha, come dire, invece delle carenze in questo, chiaramente il rapporto diventa disequilibrato e non è mai una bella tipologia di rapporto quando c'è disequilibrio. Per cui il primo passaggio da fare è che è necessario diventare autentici e com'è possibile diventare la versione autentica di noi stessi? Beh innanzitutto chiedendosi io chi voglio essere in questo mondo? Che cosa per me è importante? Come voglio passare il mio tempo in questa esistenza, in questa vita? Perché facendoti queste domande riporti l'attenzione su di te e riporti te stessa o te stesso al centro del tuo mondo e ti assicuro una cosa e questo lo vedo accadere continuamente, l'ho visto accadere a me in prima persona, lo vedo accadere anche con tante delle mie studentesse, in particolare dei percorsi individuali. Quando tu ti metti al centro del tuo mondo è proprio lì che la persona specifica ritorna, che la persona specifica è attratta da te, perché come dicevo prima quando noi mettiamo noi stessi al centro del nostro mondo diventiamo estremamente attrattivi, diventiamo magnetici e quindi di conseguenza la persona specifica in modo naturale è attratta verso di noi, no? Perché? Perché oltretutto il processo di manifestazione funziona così, per cui se io nella mia realtà interna metto me stessa al centro del mondo, mi riconosco il mio valore, so quello che merito, questo in modo autentico, questa è l'autenticità, ok? Perché autenticità, attenzione, non è che sto dicendo che ti venga naturale subito, con autentico intendo dire che è per natura che noi dovremmo riconoscere il nostro valore, perché se non lo facciamo noi non abbiamo la possibilità di condurre un'esistenza felice e noi siamo qui per sperimentare la gioia, la felicità, l'amore, ok? Quindi anche se così adesso nell'immediato ascoltando le mie parole non lo senti un concetto naturale, significa che ci sono delle credenze che ti fanno pensare il contrario, ma non ti devi preoccupare perché basta lavorarci su. Riportare noi stessi al centro del nostro mondo è un diritto che abbiamo ed è anche un dovere nei nostri confronti e quando lo facciamo, quindi quando ci riconosciamo questo valore, è lì che c'è la nostra autenticità e questa nostra autenticità in automatico è qualcosa che manifestiamo e che riflettiamo. E se noi mettiamo noi stessi al centro del nostro mondo e ci riteniamo meritevoli di amore perché ci riconosciamo il nostro valore, sarà anche ciò che riflettiamo nella realtà esterna. Quindi altri motivi, circostanze o persone che andranno a confermare questo nostro riconoscimento di valore e questo nostro essere al centro del nostro mondo. Quindi significa amare noi stessi, avere piacere di stare con noi stessi. Per cui se stai praticando per manifestare consapevolmente una persona specifica e ti ritrovi a compiacerla, alle volte, ecco fai attenzione, riportati al centro del tuo mondo, stai nuovamente in quello stato d'essere, cioè nello stato d'essere di con lei o di colui che sa quello che vuole, che sa quello che merita, che ama passare il proprio tempo con se stesso, che si riconosce questo valore e sta pur certa che ben presto lo farà anche la persona specifica. Perché sarà ciò che tu credi essere vero e quindi sarà ciò che tu manifesti e che poi rifletti nella tua realtà esterna. Ti ringrazio infinitamente per essere stata o stato qui con me, come sempre è un grandissimo piacere e ci vediamo nel prossimo video.